Tutorial Decline Push-Up, esercizio di spinta orizzontale finalizzato al potenziamento degli arti superiori. L'esercizio coinvolge principalmente i muscoli pettorali e tricipiti ed enfatizza di più il reclutamento dei deltoidi. Dalla posizione di partenza in appoggio su mani avampiedi sul rialzo da 50 cm come un divano, panchetta o box, con tronco e bacino allineati si esegue contemporaneamente una flessione dei gomiti e un'estensione delle spalle avvicinando il petto al suolo. Arrivare fino a sfiorare quasi con il naso il pavimento per poi tornare in posizione di partenza. Inspirare nella fase discendente ed espirare nella fase di risalita.